Io cercavo il lato umano delle scienziate e così ho avuto, una volta che ho avuto abbastanza materiale per raccontare Marie Curie, allora ho scritto la sua storia. Dopo Marie Curie mi è venuta voglia di ricostruire la storia di Lise Meitner, che Einstein chiamava la nostra Marie Curie, la grande scienziata era Marie Curie per lui. E quindi ho ricostruito anche Lise Meitner, la madre della bomba atomica. A proposito di madri, poi c'è la madre del DNA, Rosalind Franklin, poi Emmy Noether, a cui Einstein ha dedicato un necrologio struggente. Poi c'è stata la moglie di Einstein, la prima moglie a cui molti dicono che si è dovuto il suo lavoro, che ha portato al suo primo premio Nobel, al premio Nobel per l'effetto fotoelettrico. E poi racconto di Edie Lamar, la donna più bella del mondo, fino all'arrivo di Marilyn Monroe, è stata anche l'inventrice del Wi-Fi moderno. Per molti lei è quella sconosciuta. Ho cercato di ricostruire in questo libro sei donne che hanno cambiato il mondo, il loro lato umano, con le loro paure, con le loro incertezze, con i loro abissi. Perché capendo le loro paure, è come se capissi le mie, e quindi è bello identificarsi in donne che hanno cambiato il mondo, in cui è possibile vedere riflessa la parte di noi stesse di cui prenderci cura, come il più prezioso dei regali della vita.